Un saluto al Ministro, alle altre autorità, a tutti i presenti e soprattutto a voi, ragazzi del Padiglione Firenze e del Padiglione Livorno. Sono lieto di darvi il mio saluto in occasione dell'anteprima di Robinù, di Michele Santoro e Maddalena Oliva. A loro e ai protagonisti del film, ai giovani protagonisti faccio i miei complimenti e gli auguri per un film di alto valore sociale. Questa proiezione di Robinù avviene non in una sala cinematografica ma all'interno di un carcere, cioè di un luogo di privazione della libertà e quindi di disagio, di sofferenza. L'istituzione carceraria rappresenta per lo Stato una necessità non derogabile, ma alcune volte è anche una sconfitta. È una necessità perché un comportamento gravemente contrario alla legge che provoca ad altre persone danni e dolore deve essere necessariamente sanzionato. Diventa anche una sconfitta quando avvarcare le porte del carcere è un giovane proveniente da un contesto sociale difficile, segnato da una forte presenza di criminalità. È una sconfitta perché segnala la carenza del sistema educativo e della vicinanza dello Stato. Stato. Il carcere comunque non è e non deve mai essere il luogo in cui viene negata la speranza. A nessuno, tantomeno ai giovani, deve essere tolta la possibilità di riabilitarsi, lasciando i sentieri dell'odio e della violenza che non portano felicità, ma producono e moltiplicano soltanto sofferenza e paura. Ragazzi, anche nella cellula di un carcere, nella privazione della libertà, nella lontananza degli affetti familiari, le istituzioni devono esservi accanto. La reeducazione che la nostra Costituzione prescrive non è un percorso facile. Serve anche il vostro impegno, la vostra tenacia, la forza di resistere, ma è l'unico percorso che possa garantire davvero a voi e ai vostri cari un futuro di serenità, di dignità, di appagamento. Lo Stato, naturalmente, come sta cercando di fare, deve impegnarsi per la sua parte, moltiplicando le occasioni per la formazione, quelle per il reinserimento sociale, sviluppando un sistema di pene alternative. Servono anche, è naturale, l'attenzione e la partecipazione della società civile, degli intellettuali, degli artisti, dei mezzi di comunicazione, perché chi esce dal carcere non sia un isolato, ma torni a sentirsi a pieno titolo cittadino e membro della nostra comunità nazionale. Cambiar vita è possibile ed è l'unica strada positiva. Io sarò attento alla vostra condizione.